Pari-fan-cum, ecco di qua. Pari-fan-cum, ma chi lo sa? Se babbo, mamma e coscio, lo sa anche io, son proprio io. Pari-fan-cum, spesso lo sai. Pari-fan-cum, combino guai, ma fogli e negai coppia sa, il guaio presto sbarirà. Salve a tutti gli amici del canale di Arbio82, buon pomeriggio, partiamo con una video recensione. Ragazzi, come vedete dinanzi a voi, ecco qui questa nuova fantastica raccolta da Edicola, ragazzi, Creamy Mami e le incantevoli maghette 3D Collection. Nuova raccolta della Centauria, ragazzi, guardate qui. Fantastica l'incantevole Creamy, come prima uscita la bellissima Creamy, eccola qui. Questo è tutto il fascicolo per intero, qui abbiamo il fascicolo e qui la fantastica statuetta di Creamy, che vediamo tra un po', ecco qui, avvicino un po', ecco qui, ragazzi, vedete, prima uscita, Creamy Mami, riproduzione 3D, più fascicolo, a 12,99 euro, ragazzi. Come prima uscita, però, devo dire che è un po' caruccio, eh ragazzi, però... Vediamo un po', sicuramente prenderò anche la seconda uscita, perché è Magica Emy, come seconda uscita, ecco qui, colleziona le eroine anime più magiche e amate di sempre. Ecco qui, fantastica nostra Creamy, dietro qui al fascicolo vediamo un po' di uscite future, ecco qui, Magica Emy, c'è questa qui, chi è questo qua? Ah, Megumi, sinceramente non mi ricordo chi è, e questa è Yu, che non è altro che Creamy in versione, è, diciamo, normale, non trasformata. Ecco qui, ragazzi, preziosi riproduzione 3D da collezione, curati in ogni minimo particolare, dettagli in materiale morbido, soft touch. E come vedete qui, tra due settimane in edicolo, la seconda uscita Magica Emy, ragazzi, bellissima, e non vedo l'ora. Questa sicuramente la prenderò. Ecco qui, prodotto dalla Centauria, ecco qui, ragazzi, uno splendido fascicolo ricco di informazioni e curiosità sulle serie giapponesi più magiche e amate di sempre. Eh sì, ragazzi, per noi bambini del passato, queste statuette qui, i personaggi anime anni 80 sono delle vere, vere, vere chicchette. Ma non perdiamo tempo, ragazzi, apriamo sto fascicolo e vediamo un po' di cosa si tratta. Ecco qui, ritornato ragazzi, ho aperto tutto sto fascicolo e vediamo un po' cosa è uscito. Allora, questo è uscito, questo puscoletto qui, il vario puscoletto qui per fare il classico abbonamento online che sinceramente a me non interessa perché prenderò siano due o tre uscite. Eccolo qui, per chi interessa questa tutta la raccolta, conviene fare l'abbonamento, ci sono anche regali esclusivi, questa è la stessa cosa, non perdere nemmeno una copia della tua collana preferita, prenota online e ritira in edicolo. Eccolo qui, questo mettiamo tutta la parte qui e poi vediamo che sono uscite altre due, scicolette, guardate qui che bellissimo sto disegno di crimi, veramente fantastica, guida all'opera, vediamo un po'. Ecco qui, seconda uscita ragazzi, Magica Emi, preziosi riproduzioni in 3D da collezione, eccolo qui, nostra fantastica crimi, ecco la collezione alle indimenticabili maghette protagoniste di sei animati e più magiche di sempre, con ogni uscita fascicolo più riproduzione 3D di un personaggio anime, incantevoli e imperdibili ragazzi, eccole qui, veramente bellissime, eccole qui ragazzi, vedete? Le maghette bambine che vogliono essere grande, fantastico ragazzi, quanti ricordi, eccola qui, la seconda uscita Magica Emi, sempre a 12,99€, meno male che non è aumentato, eccola qui, non vedo l'ora di prendere anche questa statuetta qui, che bello, mamma mia, quanto mi piaceva crimi, mettiamo questo a posto qui, e vediamo qui, quest'altro fascicoletto, qui c'è tutta la storia dell'anime di crimi mami, ecco qui, io, poso e nega qua, poso e nega, i due gattini qua, ecco qui, pimpolupampoli farimpampu, belli belli però, devo dire, questi fascicoli, poi dopo me li metto a leggere, Magical Stick, che era lo scettro di crimi, di Yu, eccola qui, tutti i vari oggetti che usava Yu, ricordo che le canzoni di crimi, vabbè, lasciamo perdere, eccola qui nel dettaglio, la statuetta che è uscita in questo fascicolo, eccola qui, adesso la andiamo a vedere, poi, 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 qui altre cose che raccontano la storia di quest'anime, ecco qui i vari poster, fantastico, lo sciglio, eccola qui, figo figo figo, ed eccola qui, la parte finale, la serie, Centauri, e boh, Magicale mi secondo fascicolo tra due settimane, ed eccola qui ragazzi, ma non perdiamo tempo, amici miei, perché adesso ci dedichiamo alla cosa più importante, che è questa fantastica statuetta dell'incantevole crimi, devo dire che il packaging mi piace un casino, ecco qui, Magical Angel Creamy Mummy, fantastico questo scatolino, con questa vetrinetta angolata, fighissima, questa è da rimanere dentro, però, in questo caso, la apriamo, così la vediamo un po' più nel dettaglio, eccola qui, facile facile, unboxiamola, in diretta, ecco qui, facciamo uno scatolino, qua, ed eccola qui, la nostra fantastica crimi, ragazzi, guardate qui, mamma mia, guardate qui che dettagli alla nostra crimi, spero che si veda un po' meglio, guardate qui la basetta, sotto c'è il nome del personaggio, guardate questa stella tutta glitterata come basetta, veramente fantastica, guardate qui, guardate qui, è meravigliosa, la gonna è morbida, anche qui, le spalline sono fatte morbide, devo dire, amici, che il livello di dettaglio, anche come sono disegnati gli occhi, veramente fantastica, è perfetta, guardate qui, guardate qui, le cosce, i suoi calzini qui, eccola qui, si vede anche la parte intima della nostra crimi, guardate qui, con il microfono, ecco, la sua posizione classica, ecco, guardate qui, vanno pure i capelli fatti qui, in rilievo, veramente bellissima, devo dire, guardate i capelli, bella, 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 ragazzi, il viso, se si può, se focalizza o non focalizza, non focalizza, come al solito, comunque, è fantastica, amici, ho abbassato un po', diciamo, il telefono, vediamo se si vede un po' meglio, credo di sì, comunque, è veramente fantastica, amici, un livello di dettaglio pazzesco, questa statuetta, e niente, amici miei, questo era il primo fascicolo della raccolta Creamy Mami e le leggende, e le incantevoli maghette 3D collection, ragazzi, e boh, prenderò anche, come ho detto prima, il secondo fascicolo, e boh, comunque, la consiglio, anche se è un pochino cara, come prima uscita, però, per gli amanti dei cartoni animati anni 80, come me, e tantissimi collezionisti, come me, non posso fare altro che consigliarlo, ragazzi, eh, e niente, amici, sono arrivato alla fine del video, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, alve82, cliccate la campanella, per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che farò, se volete lasciate un mi piace, e commentate sotto, e fatemi sapere se anche voi avete acquistato questa fantastica Creamy, e se andrete avanti con la collezione, e cosa ne pensate, no? e boh, arrivederci, amici, alve82, e dall'incantevole Creamy, arrivederci, grazie a tutti,